Ehi, non c'è l'indanna, no? Va! Uy! Storia tuia! Eh? Storia! Eh? Storia! Storia! Tegas tenech! Descubre! Patak! 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 Perihal! Patak! Tentang! Teh! Patak! Tentang! Sì, 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 sì. Sì, 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 sì. Sì, 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 sì. Sì, 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 sì. Sì, sì, sì. Sì, sì, sì. Sì, sì. Sì, sì. Sì, sì. Sì, sì. Sì, sì. Sì, sì, sì. 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 Sì. Sì, sì. Sì, sì. Sì. Sì, sì. Sì. Sì, sì. Sì. Sì, sì. Sì, sì. Sì. Sì, sì. Sì. Sì, 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 sì. 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 Il nostro corso gratuito è www.mesmerism.info Un'altra parte. Scrive, buonaíveis! Sì, 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 sì. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.